Ok ragazzi, c'è un cambio in console, a partire da questo momento, a The Flame, nella notte di Natale, per la prima volta a The Flame, uno dei DJ più importanti che hanno fatto la storia, ladies e gentlemen, a questo momento in console, Mister B.L. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.